si vedeva buono il attenzione iozzo iozzo colpisce e segna c'è stato un malinteso tra grillone e fiorentino e iozzo quando siamo al trentottesimo minuto con un pallone non era una parabola era proprio un pallone messo dentro gran tiro di me lascia ed è gol segna voci canistra mette in mezzo il pallone la palla arriva Marco voci ed esplode il frabotto mannesi con un tiro con un tiro in corsa ed eccoci ora col match winner Marco voci una doppietta innanzitutto a chi la dedichiamo sentivo parlare dell'amico Macri negli spogliatoi no scherziamo la dedichiamo a tutta la gente che viene a vederci ogni domenica e a tutto il gruppo in cui ci sacrifichiamo ogni settimana per raggiungere degli obiettivi e soprattutto un montepone che ha voluto la vittoria contro un signor chiaravalle c'è voluto un destro di esterno diagonale di Marco voci per risolvere la partita come ripeto il merito non è solo di tutta la squadra il chiaravalle è stato diciamo che è stata una partita dura a tratti perché loro non è che hanno fatto granché abbiamo dominato a lungo e largo penso come si è visto e la vittoria penso sia meritata e soprattutto sei arrivato a sette gol vedo i tuoi otto allora avevo anche sbagliato i tuoi amici i tuoi amici che festeggiano come si festeggerà stasera tutti al pub a montepaone offre Marco voci no Marco voci non offre offre valerio paparazzo nicola macri che hanno le attività noi andiamo a consumare e forse questo è lo spirito giusto una squadra che punta in alto anche se non diciamo in alto dove guidata da un mister pisano che è veramente un signor allenatore non pensiamo pensiamo parita per partita continuiamo a divertirci quello che viene viene speriamo di essere sempre là sopra la classifica non la guardiamo andiamo avanti così ed eccoci ora con l'amico peppe maellare direttore sportivo del chiaravalle innanzitutto complimenti perché si è visto un ottimo chiaravalle a dispetto e della classifica e del risultato finale che però vive dei sconfitti purtroppo il campo ci ha dato l'esito negativo ce l'avevamo messo tutti sicuramente non era questa la partita in cui noi aspettavamo qualcosa però effettivamente la squadra devo fare i complimenti sia al mister pisano e sia a tutti i giocatori che hanno dato il massimo in campo purtroppo il primo tempo era finito positivamente per noi poi il secondo tempo non so se è stato uno svarione del portiere o un fallo questo poi lo vedremo e la partita è cambiata però non posso fare altro che complimentare e elogiare sia il mister che la squadra per l'attaccamento e per la professionalità che hanno dimostrato oggi in campo. Un Montepaone forse superiore al punto di vista tecnico ma un chiaravalle che ha saputo gestire la partita concretizzando il risultato e stava quasi per portarlo a termine non dico una vittoria ma almeno un pareggio quindi avete sfruttato delle ottime armi le vostre armi ma sicuramente come sarebbe stata la partita almeno un pareggio ce lo meritavamo diciamo ai punti il pareggio sarebbe stato il risultato giusto anche perché finalmente si vedono i nuovi meccanismi del nuovo del nuovo mister che purtroppo è da due settimane e speriamo che da sabato prossimo possiamo iniziare anche noi con qualche vittoria e prenderci qualche soddisfazione che tutto l'ambiente sportivo aspetta. In tribuna stampa ci ponevamo una domanda conviene fare anche se molto bene la tattica del fuorigioco in un campionato di prima categoria? No no ma infatti il mister ha richiamato i difensori di non farla perché effettivamente l'arbitro essendo solo sono decisioni che a volte a favore a volte a sfavore ci possono anche penalizzare in questi campionati e non anche il mister stesso è favorevole a non fare la tattica del fuorigioco